Ciao, volevo condividere il metodo che ho utilizzato per disegnare l'ultima splash page che mi è capitato di fare per Dragonero siccome è un metodo un po' particolare che riservo solo a delle pagine particolarmente complesse questa è sempre una pagina di Dragonero disegnata da Gianluca Gugliotta e colorata da Piki Hamilton e questa era l'indicazione di sceneggiatura insomma un villaggio di montagna di ispirazione vichinga e allora quello che ho fatto è stato andare a raccogliere come faccio sempre insomma un po' di immagini di documentazione di abitazioni del tipo che dovevo disegnare e in particolare l'elemento principale doveva essere un cancello di ingresso che è quello appunto fortificato e nelle vignette successive poi i personaggi avranno un dialogo insomma sotto questo cancello e quindi quando avevo abbastanza elementi visivi quello che ho fatto è stato passare alla costruzione tridimensionale visto che era richiesta una prospettiva particolare e ho utilizzato Blender e sono partito costruendo gli elementi fondamentali quindi volevo mettere in primo piano la sala grande avevo già disegnato molte volte una sala grande di tipo nordico insomma quindi sapevo più o meno che forma aveva si può impostare una modalità a specchio nella quale realizzo le cose su uno solo dei quattro lati e vengono automaticamente replicate su tutti e quattro i lati quindi per esempio queste travi ci sono degli strumenti ecco come quello che sto utilizzando in questo momento in cui per esempio possono dare spessore a delle linee disegnate e quindi utilizzando questi modificatori ecco qui che posso semplicemente disegnare con la penna come farei sul normale programma di disegno però gli elementi che disegno diventano degli oggetti tridimensionali e li sto effettivamente facendo volutamente anche molto storti e schizzati proprio perché mantengano questo aspetto disegnato tra l'altro una volta che si comincia ad avere un po' di elementi è possibile metterli insieme come in questo caso ho utilizzato la parte sotto replicata e un po' modificata e l'ho messa di sopra ed ecco che la complessità della struttura aumenta un porticato di nuovo con lo stesso sistema delle righe disegnate e dopo di nuovo appunto degli elementi che replico che comunque mantengono quell'aspetto disegnato a mano che è da ricercare in un disegno avevo ormai già preparato come vedete qua sullo sfondo già un altro paio di case generiche e quindi sono passato all'oggetto più complesso e più iconico che era il cancello di ingresso anche qui come vedete uso semplicemente delle forme piuttosto semplici parto da cubi e da cilindri e poi li modifico leggermente soprattutto grazie allo strumento estrudi sul tetto non ho fatto altro che disegnare tac 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 tutte le tegole e poi ovviamente piano piano anche tutto il resto adesso vado un po' avanti però per esempio tutti questi legni che sporgono è un metodo di lavoro piuttosto naturale che somiglia molto al disegno solo che avviene in uno spazio tridimensionale e una volta costruita la prima torre l'ho replicata dall'altro lato facendone una coppia uguale e sono passato a costruire il cancello queste assi qui quando le replico cerco un po' di inclinarle e di ruotarle in maniera che non stiano perfettamente diritte che si veda questo aspetto costruito a mano diciamo comunque in ogni caso diciamo che se si vuole tenere un approccio disegnato è sempre meglio che ci siano delle cosette non perfette un po' fuori posto guardando a questa distanza da lontano il risultato è comunque gradevole una volta ottenuti gli elementi principali quindi un paio di case e questo cancello ho costruito il terreno questa è stata un po' una complicazione perché se il tutto fosse stato in piano sarebbe stato estremamente più facile sono partito da un piano al quale ho applicato una deformazione con del rumore un displacement e dopodiché ci sono gli strumenti di scultura che permettono di appiattire spostare a mano come se stessi pennellando gli elementi in maniera che possa andare a fare esattamente quello che mi serve perché qua infatti per esempio vado a costruire un altro piano ancora sul quale poi metterò le case e anche qui lo sto scolpendo piano piano e facendo riapparire in alcune zone da sotto la parte montagnosa per avere la superficie del villaggio e ora parto da quest'altro file dove avevo i miei elementi e li porto qui e gli trovo un punto dove penso che possa stare bene al centro del villaggio non troppo vicino alla porta ma nello stesso tempo dovevo nella stessa inquadratura averli tutti e due quindi è sensato che non l'abbiano costruita troppo vicino all'ingresso ma nello stesso tempo io avevo bisogno di inquadrarli entrambi quindi ho cercato una via di mezzo l'avevo prima messa un po' troppo vicino alla porta una volta posizionata la sala principale comincio con le case in realtà di case ne avevo semplicemente due una un po' più grande che è questa e una un po' più piccolina per ora sto mettendo queste qui quelle principali quelle un po' più grandi le posiziono in una maniera ragionevole rispetto a quello che può essere il metodo col quale il villaggio si è allargato e adesso ho quest'altra casa un po' più piccolina che quindi magari è più adatta a essere messa sulle parti alte delle montagne quindi nella parte più piana magari hanno costruito delle case un po' più grandi queste qua più piccoline sono adatte a essere messe nelle zone più ripide quando le ho costruite ho fatto in modo che i quattro lati della casa fossero diversi tra di loro in questo modo ruotando la stessa casa posso dare l'idea di case diverse ora una delle torri del cancello la sto modificando in maniera da trasformarla in una torretta di osservazione ho cancellato la parte centrale e ho unito le due parti laterali ottenendo una torretta un po' più piccola ora avevo invece bisogno di un elemento che ancora non avevo disegnato quindi ho ripreso il primo file quello con gli elementi fatti separatamente e realizzo una palizzata per poter fare tutto l'esterno del villaggio sempre utilizzando il copia e incolla di stessi elementi ho costruito tutte le altre parti e ho disegnato dei cerchietti poi li ho gonfiati e il risultato è che assomigliano a delle pietre insomma un camminamento per le eventuali guardie e anche degli elementi di difesa qui sto facendo delle assi immaginando il camminamento di nuovo come vedete le giro e le rovino un po' ecco in maniera che non siano tutte perfette e ora questo elemento qua è un elemento base della palizzata che posso utilizzare ripetendolo e comincio a piazzarlo con il metodo di prima sposta duplica anche queste sono istanze sempre dello stesso oggetto ho dovuto aggiungere delle parti di pietra sotto in questa zona e come vedete essendo istanze le pietre si sono aggiunte a tutta la palizzata ora che avevo anche la palizzata potevo immaginare altre disposizioni per le case ovviamente sto andando a modificare anche sempre il terreno arriva il momento in cui bisogna un po' decidere da che parte inquadriamo per mettere gli oggetti nel modo in cui è più carino rispetto alla costruzione dell'immagine ora ovviamente non può non esserci della vegetazione e anche qui una volta ottenuto un elemento non devo fare altro che portarlo di là e che è quello che sto facendo adesso e cercare di metterlo nei posti giusti e eventualmente appunto ruotarlo e ridimensionarlo qua sarebbe stato carino pensavo di metterne uno in primo piano ci stava doveva essere definito meglio quindi ho pensato che eventualmente potevo realizzarlo disegnando e ottenere un risultato migliore bisogna sempre trovare il conoscere le proprie capacità diciamo e sapere cosa viene bene bidimensionalmente disegnato semplicemente e cosa invece ci può essere utile in 3D cerco di ottenere l'idea di un altro tipo di vegetazione coperto dalla neve e quindi questo lo sto usando per fare degli ulteriori cespugli in altre zone il paesaggio tridimensionale per poterlo disegnare sarebbe meglio avere un risultato il più possibile simile a un disegno a inchiostro utilizzando un po' l'occlusione ambientale e un po' quella che si chiama cavity fornita dal motore di rendering workbench e facendo vari esperimenti in clip studio in pratica regolando diverse immagini una sopra l'altra in maniera da avere per le cose più lontane dei segni più sottili per le cose più vicine dei segni più grossi alla fine ho portato in clip studio il disegno eccolo qua clip studio paint è il programma che uso per disegnare alla fine bisogna comunque disegnare ovviamente e quindi partendo da questo ho cominciato a disegnare non ho registrato tutta la sequenza però questo è un momento per esempio in cui potete vedere come poi il disegno è già a un buon punto come vedete la maggior parte del rendering è stato coperto sotto potete vedere l'immagine in cui ho tratteggiato a mano tutta una serie di cose alcune linee sono ancora quelle ottenute dal programma tridimensionale e poi sulle quali ho aggiunto ovviamente come a dipingerci sopra tutte quelle parti come sto facendo adesso in questa zona che non c'erano nel disegno originale ma soprattutto quelle che comunque vanno personalizzate insomma e disegnate e non procedo mai andando a rifinire perfettamente ogni singolo punto vado a fare mi sposto da una zona all'altra come vedete adesso faccio le montagne un attimo prima stavo facendo degli alberi poi mi sposto magari tra un po' ritorno sulle montagne utilizzato un po' di tempo per crearmi un pennello che potesse farmi un tratteggio simile all'idea di pini anzi ho fatto uno utilizzo quel pennello per poi farne un altro ho utilizzato un po' di tempo per creare il pennello dopodiché questo è l'effetto ottenuto con quel pennello che magari mi verrà comodo anche in altri disegni adesso che ce l'ho insomma quindi val sempre la pena crearsi un po' di strumenti personali come ecco per esempio questo pennello con i corvi lo avevo fatto in un altro disegno e qua mi è venuto comodo insomma ho utilizzato i corvi che avevo già disegnato da un'altra parte e quello che faccio non è nient'altro che andare a disegnare tutto quello che manca quindi persone animali la neve soprattutto quello che è cambiato molto è il primo piano sul rendering qua in primo piano avevo tutta una serie di foglie che sinceramente non avevano senso perché essendo una scena invernale avere tutte queste belle foglie larghe non ci sono molte piante a foglia larga che sopravvivono che sopravvivono d'inverno per cui alla fine ho finito per ridisegnare oltre al coniglio che comunque aiuta a dare un po' di vita alla scena ho finito per sostituire tutte le piante che avevo nel rendering con queste qui e ormai più o meno la pagina è finita sto facendo gli ultimi ritocchi ogni volta torno indietro riguardo bisogna anche arrivare al punto in cui ci si dice bene basta è finita e in questo caso questa è la pagina finita ecco qui quindi a confronto il rendering a sinistra ottenuto dal programma 3D e la tavola come vedete c'è c'è differenza insomma non è che ci si può fermare a quello che viene fornito dal dal software 3D però di sicuro è un grande aiuto molte delle linee sono poi finite nel disegno finale ed è buona cosa soprattutto nel momento in cui quelle linee le avevo disegnate nel programma 3D appunto per essere comunque morbide e disegnate come vedete tutto il primo piano invece è completamente cambiato comunque ecco qua il il lavoro fatto insomma finito in tutte e due le versioni è stata una vignetta complicata ma ogni tanto vale la pena all'interno di un albo fare tutto questo lavoro per avere una bella vignetta il vantaggio di averla disegnata in 3D è che adesso questo villaggio è a mia disposizione per anche altre inquadrature che dovessi avere all'interno della stessa storia magari da altre direzioni dovrò fare delle correzioni per esempio si può vedere che questo questo strano in questo momento a guardarlo da questa parte risulta molto strano questo questo pezzo di asse abbandonato lì nel mezzo ma soprattutto posso avere un'idea di come è fatto davvero questo posto nel senso di potermi mettere nei panni dei personaggi e quindi vederli percorrere la strada se devono parlare cosa si può vedere alla loro destra alla loro sinistra semplicemente averlo a disposizione per studiare un'inquadratura una loro camminata attraverso il villaggio eccetera e farmi venire delle idee di inquadratura è qualcosa di molto molto utile insomma spero che possa essere un un metodo interessante di avervi stimolato eventualmente ad approfondirlo io ho anche preparato volendo ho fatto ben due tutorial in cui insegno come utilizzare questo programma di disegno tridimensionale che si chiama Blender per un disegnatore insomma questa è la pagina su cui trovate tutti i tutorial che ho fatto in particolare quelli che riguardano appunto Blender sono questo comunque faccio vedere come portare il disegno sia a una base come questa per un'eventuale pittura digitale a colori sia appunto un disegno in bianco e nero come quello che avete visto su questa vignetta invece quest'altro è più avanzato si va a costruire nel nel corso questa astronave che poi viene usata sia per fare si viene usata per fare un disegno a colori ma nello stesso tempo appunto mostro anche come ci si può fermare a un disegno in bianco e nero magari con con un tratteggio appunto a linee in questo caso non c'è alcun disegno bidimensionale questo è ottenuto tutto direttamente da dal programma 3D e poi in clip studio paint questo effetto di di retino che può essere fatto con i puntini con le righe come preferite altrimenti appunto siccome si può facilmente applicare colori luci eccetera anche poter arrivare alla fine a un'illustrazione a colori a volte anzi il metodo del 3D è più utile per per realizzare vere e proprie illustrazioni a colori insomma comunque se siete curiosi poi qua io ho realizzato anche degli altri tutorial dove spiego appunto come coloro o degli aspetti tecnici seguitemi pure su Instagram la mia pagina Instagram dove pubblico diverse cose che faccio e anche il mio profilo Facebook insomma questi sono gli indirizzi Facebook Malisan Luca Instagram Luca Malisan e Gumroad Malisan grazie mille spero che sia stato un minimo interessante ok Grazie.